Un nuovo sit-in di protesta davanti agli uffici del Comune di Brindisi da parte del Sindacato Cobas assieme ai lavoratori della Brindisi Multiservizi per quanto riguarda il mancato pagamento degli stipendi. Lo stesso Sindacato Cobas nei mesi scorsi era riuscito a condividere con l'amministrazione comunale una soluzione ma la tranquillità dei mesi dei pagamenti è stata sostituita dagli acconti in quanto si doveva far fronte a pagamenti a terzi. Ascoltiamo l'intervista. Noi abbiamo inaugurato da anni un comportamento di carattere sindacale che portava ad un profondo rinnovamento della platea dei lavoratori presenti in multiservizi, abbiamo sostenuto dei cambiamenti ma abbiamo anche sostenuto la necessità che la Brindisi Multiservizi possa ricevere quando ci sono i pagamenti quei soldi che servono. Abbiamo impiegato anche diverse manifestazioni per venire qui e protestare e ci siamo riusciti dopo tempo con l'ex assessore Francesco Sabonaro a trovare un sistema un sistema di pagamenti che oggi ci sembra essere esaltato e quindi ci troviamo ogni mese di nuovo con quell'ansia di ricevere lo stipendio perché se c'è un profondo rinnovamento e i lavoratori contribuiscono fortemente a questo profondo rinnovamento è anche giusto che quello stipendio che è misero rispetto alla soglia, la stessa soglia di povertà che lo pone a 1.400, 1.500 ed è continuato ad aumentare la soglia di povertà con il rincare e con tutto lo stipendio si attesta sulle 1.000 euro quindi non ricevere nemmeno quelle 1.000 euro significa morire di fame ma se non le si riceve si muore ancora di più di fame ed è per questo che siamo qui a rinnovare all'amministrazione comunale un appello per quell'amministrazione che c'è oggi, quell'appello a fare bene i pagamenti perché la gente deve sapere che il giorno della paga è il giorno della paga e non altro